Nel carcere. Ero appena entrata nel carcere come assistente volontaria e al detenuto con cui ebbi il primo colloquio chiesi come sta la sua famiglia. Lui mi rispose l'ho uccisa tutta. Commento. Raccapricciante per chi ascolta e normale per l'assassino della sua famiglia. Qual è la differenza tra le due opinioni? Chi ascolta è a metà delle incarnazioni umane e l'assassino è alle prime incarnazioni umane.